Tutti i bambini aspettano, tutti i bambini aspettano la tua venuta Gesù Bambino. Tutti i bambini aspettano, tutti i bambini aspettano la tua venuta, Gesù bambino. Anche in questo clima, anche in questo clima, anche in questo clima qua. Anche in questo clima, anche in questo clima, anche in questo clima qua. in cui viviamo lo spettro del coronavirus, in cui viviamo lo spettro del covid-19. Ma tutti i bambini aspettano, tutti i bambini aspettano, tutti i bambini aspettano, tutti i bambini aspettano te e Gesù Bambino. Anche in questo clima, anche in questo clima dobbiamo essere forti, non lasciamoli, non lasciamoli senza i doni. E festa per loro è ancora Natale, è festa per loro è ancora Natale, è in tutti i nostri cuori, è in tutti i nostri cuori, è in tutti i nostri cuori.